E' così, sto pezzo di Coniglio e Nardo Abbati, ora si mentiva improprio. Cento chili di colombiana sbarcarò ieri a Palermo. Però fai, è abbastanza per la stare a guardarlo. Si sciorzerà da solo, vi dico. La prima consegna finisce a schifire, no? O corriere in galera, o un carico confiscato. Ma si imparerà, si ingranderà e finirà per darci fastidio. Io dico, di mandarci un altro avvertimento. Ma è che di forte, cosa andrò pure i sordi. Ma che volevamo scatenare una guerra per cento chili? No, la volevamo evitare. E allora, alla salute della bedda Rosa Abbata, torinese. Toca, tia.